Eh ma basta, ma eh, basta, senti io ho paura di trovarti anche a casa quando finisci la opera, volerò a scendere la musica, potrebbe succedere, potrebbe succedere, è vero, ragione, no non succederà, sai perché? Non lo reagiti eh, vai giù, vai bene, è tranquillo, la salutarla sono ancora qui, grazie ragazzi, complimenti, applauso, mamma mia, ti segui un attimo, ho fatto il calcio volante oggi, era molto bello, ma sto mi uscito anche bene, abbiamo delle immagini, si si aspetta, tu sei bravo, lo sai, non mi saprondo, tu sei bravo, tu sei bravo, eccolo sta arrivando, attenzione voglio vedere come ero coordinato, guarda, si amè, io ho visto, ho visto a lui con siga cantava, ho visto a fai subito il calcio con l'alce, con la zia che fa che fai, cosa balli, cosa, mi si è passata, sono senza voce, ti ho detto anche prima, non è, attenzione, ah no, non lo so, grazie, bellissimo il calcio volante, voglio un video, lo mandano a mia mamma, va bene, cantiamo, Maledetta Primavera, un po' questa che ci ha devastato, che è che viene a cantare Maledetta Primavera, eccola qui, voilà, la balliamo giù, la balliamo giù, la balliamo giù questa, remizzata, ciao, ciao, il tuo nome? Ciscia, bella lì, Ciscia, che bel sorriso, mi piace, ma io fingo, ma è vero, non è vero, ti lavoro, che lavoro fai? Faccio l'interviera, e ti occupi di qualcosa in particolare? Lavoro in medicina, gastroenterologia, allora, questa mattina ho mangiato la piadina con il suo acquarolo, di mattina, eh sì, poi i miei orari, la mia vita, e mi cazzi, che è mia madre, e mi sento benissimo, mi sento un po' gastro sensuale, ragazzi con le mani, dai, bella, zio, bella, bella, e si beva di noi, e si beva di noi,